Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buonasera, non lo so. Iniziamo il canale YouTube in questo modo qua, dentro il cantiere, vedete? Casa mia, un cantiere. Lì si parte per Naples, qua c'è Johnny, lì c'è Silly che cucina. Lì si parte per Naples. Ragazzi siamo in partenza e questa è la fotocamera che mi accompagnerà. Così. Eccoci, siamo arrivati a Naples, questa è la vista che abbiamo, niente di che. Ci hanno dato una discreta pelata per questo hotel, mi ha fatto pure la marachella, mi ha detto ma la colazione non è inclusa, vi ho fatto un upgrade, avevate la standard, vi ho messo la superior, sì. La superior con la vista a monte bianco, va bene. Eccoci qua, pronti, confi, confi, con il fanny pack sotto il giacchino e partiamo. Andiamo. Let's go. Allora ragazzi siamo qui, siamo qui. Anche qui abbiamo le copie, no scherzo. Guardate qua cosa c'è, must have, no, non è esattamente must have. Allora dice che devo chiamarlo quando sono fuori che c'è un bodyguard che ci porta dentro, c'è tipo una discoteca per un panino, incredibile, guardate che cosa che c'è. Sì, 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 stanno di qua. Sì, sì, stanno di qua. Sì, stanno di qua. Allora, da Donato c'è un po' di coda, ci ha messo un attimo in stand by, guardate sta sfogliatella ragazzi. Abbiamo ragazzi caffè shakerato e sfogliatella, sindischiera cappuccio freddo e un'altra sfogliatella. Musso di corgonzola, salame piccante messa nella presa, carallo spicciolato che è una pubigliana, mettiamo un po' di prova la pubigliana. Allora già, vai. Si c'è, è enorme, è enorme sto panino, è una cosa immensa. Voglio essere martinizato. ti metto una pellicola c'è anche una corda ok vabbè dai fai tu senti ma quant'è quale situazione quanto costa 30 euro ma è tanto riesci a scendere un po un pelino scendi un attimino da 25 dai lo so lo so la qualità si paga è giusto però sconticino 28 dai facciamo 27 da che ti sei andata ho fatto una serata ieri infernale adesso cerchiamo un attimo di naples day 2 risparmio la mia visione la mia visione in accappatoio sono già vestito si tira una monetina perché non sappiamo se andare da michele o ai tre santi con centina quello che è mi hanno consigliato questa pizza a tutti i costi però vediamo tiriamo la monetina vediamo chi vince naples day 2 stasera si torna a milano saluti e baci allora 50 michele e il paesaggino qui interessanti vediamo un po ti diamo la monetina maica maica musica no musica questo è un po' di più che non è piaciuto il mio frattamento è un po' di più buon giorno la mia città è un po' di più la mia città è un po' di più 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 Ok, quindi la pizza è incredibile, era quasi dolce, veramente ne è valsa l'attesa. Lei non c'è più, ora chi si fermerà? Prego! Now, we're just walking to find another coffee shop, buy another ice cream, ice cream place. Caffè shakerato, con crema di cioccolato dentro, sfogliatella ripiena, niente meno. Spettacolo! Spettacolo! Il fratello è il mio? Sì. Ok. Per uscire alcuni chemicali. Ok. Ok? Ok? Grazie a tutti. Grazie. Se ti piace, c'è un mio Instagram. Grazie. Ah voglia! Che bella sta foto, fantastica! Molto! No? 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 Chiara la? No? Sì. Umani? per il taxi per tornare a casa. Siamo in aeroporto e torniamo alle nostre vite. Ciao!